Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Luke02Tube Dopo tantissimo tempo oggi ritorniamo su Granny Il primo gioco horror che ho portato in questo canale tanti mesi fa E sono passati tre mesi dall'ultima volta che ho portato un video Quindi scusami tantissimo nonnina Se ti ho abbandonato ma oggi sono ritornato a giocare con te Quindi iniziamo subito dove oggi proveremo La modalità Nightmare Dove finora avevo fatto solo video su PC di Granny Dove ho completato tutti dalla modalità facile fino a estrema Ma oggi passiamo su Android Difficoltà l'accio normale, qualità alte E allora ragazzi cominciamo Intanto iniziamo dal classico giorno 1 dove in tutto ne abbiamo 5 Alziamoci dal nostro letto dove qui La casa è cambiata mamma mia Tutta rossa è diventata tutto questo ketchup Oh nonna che vuoi farci con il ketchup? Te vuoi mangiare tante patatine fritte eh? Stai esagerato troppo con il ketchup Intanto prendiamo il vasso che vi insegno il trucchetto adesso ragazzi Pure qua tutto pieno di ketchup E dai Tanto il pavimento ha scricchiolato Perché siamo in modalità normale Andiamo qui E adesso vi insegno questo trucchetto Se facciamo cadere qua dentro il vaso La nonna adesso arriverà ovviamente Perché quando facciamo rumore Lei arriva sempre Perché ha delle orecchie d'alefante incredibile Alla sua età di cent'anni o mille Che ne so Facendo rumore Lei andrà lì a spaccare tutto Guardate Invece di prendere il martello Buttiamo quel vaso E la nonna andrà lì a fare rumore Intanto io me la svegno Sa nonnina Non ti sei accorti di me Meglio così E adesso faccio scricchiolare il pavimento Purtroppo Io direi di andarmene via Andiamocene via Ma che quella arriva Stavo bloccando Qui per fortuna non scricchiola Forse il pavimento Intanto andiamo qua dentro Entra la nonna fa rumore Premiamo qua il pulsante Obiettivo di oggi è Non so Se scappare con la macchina O dalla porta Intanto abbiamo trovato la batteria Che serve per la macchina Quindi iniziamo già bene Intanto questa musica inquietante Veramente Aia Il topolini ci sono Noi Di topo i fantasmi Mamma mia Tanto qua abbiamo trovato Il primo pezzo del fucile Ottimo Svegniamocela Facciamo anche rumore Veloce Prima che arriva Grenny A darci noia Tanto questo io direi di lasciarlo qui Lo useremo più tardi Io ho fatto un bellissimo rumore Torniamo qui E prendiamoci anche il pezzo di fucile Tanto Ho sentito un brutto rumore E tutto ok Cia po' non Esagerato Inquietante Questa Modalità Nightman Con questi topi fantasmi Hanno troppa paura oggi Intanto prendiamo il pezzo di fucile E adesso vi faccio vedere una stanza Che non c'era su PC Versione Versione PC Guardate qui ragazzi C'è un'altra stanza Qua ovviamente abbiamo bisogno del martello Non so dov'è Mentre qui c'è la foto della sorella di Grenny Angeline Mentre qui guardate chi c'è Un corvo Dove là c'è Un ingranaggio Dove qua gli dovremmo mettere il cibo Al corvo Tanto è probabilmente Scricchiolato No Mentre lì abbiamo trovato un oggetto Un telefono Se non mi sbaglio Mentre qua c'è una stanza che non si apre Questa qui si apre soltanto Se gli spariamo qualcosa Dove là dentro c'è Un martello c'è E più quel disco Dove quello lì congela la nonna Tanto io direi di andare qui Perché la nonna adesso andrà Dove abbiamo fatto scricchiolare il pavimento Il gioco horror più difficile è questo Che abbia mai giocato Grenny Sinceramente Perché Quando fai rumore Quello arriva subito Soprattutto in modalità estrema È impossibile Anche se in modalità estrema Una volta vinte Intanto dov'è il fucile Ah eccolo Credo che l'avevo perso In queste fogne schifose Dove Lì si trova Il cortile Dove ho fatto rumore lì Sperando che Grenny vada lì Io aspetto intanto Sì la Grenny sta andando lì Perché quando sento questo rumore Che apre la porta Sta andando fuori Quindi sbrigiamoci Veloce Prima che arriva la nonnina Sperando che non è già qui O che se ne sia andata Tanto il pavimento non l'ho fatto Scricchiola E la nonna qui Ha sbundato tutto Tanto questo topolino Mamma mia Mi fa spagnare Fa spaventare E' un dioaccio rumore Classico rumore Come facevo sempre Tanti mesi fa Mettiamo questo pezzo di fucile Dove deve stare Perché se abbiamo il fucile In questo gioco E' come se avessimo quasi vinto Quindi sbrigiamoci Dove qui la macchina E' cambiata pure E' più diversa Rispetto a pc Guardate Macchina ancora più schifosa Di prima Tanto qua Dobbiamo trovare tutti gli oggetti Per scappare Intanto questa musica Mamma mia Mi fa spaventare Intanto qui Vuoi ponchi? Ottimo Questo oggetto E' utilissimo Tanto la nonnina mi chiama Nonnina Che vuoi? Non mi farò prendere da te Non mi sono mai fatto prendere In realtà Vabbè Tanto qua Facciamo cadere tutto Facciamo rumore Distruggiamogli tutta la casa Tanto qua C'è il solito biglietto Andiamo fuori Anche nel cortile Per dare un'occhiata Un video che uscirà lunghissimo Di sicuro Cercherò di tagliarlo Il più possibile Tanto andiamo qua sotto Qua dentro anzi Dove qui abbiamo trovato La gasolina E' già due oggetti Per la macchina Intanto Mi sa che scappiamo Con la macchina Stiamo trovando tutte Intanto qua Il classico rumore Facciamolo Adesso entreremo Qua dentro Quando la Granny uccirà Forza nonnina Entra Anzi Eci E ciao ciao Me ne scappo via Ciao ciao nonnina La lì mi sta inseguendo Aiuto Devo prendere l'arma Metterla fuori Ottimo Sbrighiamoci Prima che si sveglia La cara nonnina Prendiamo bene la mira Ottimo Controliamo tutta la cucina Spezionamola E qua abbiamo trovato Il coso per il corvo Il cibo Anzi Tutti i pezzi del fucile Ce li ho tutti ragazzi Ottimo Qua controllo tutto veloce Anche la manovella del poccio Ottimo Là c'è pure il codice Per la porta Che non ci servirà Che scappiamo Con la macchina Intanto prendiamo La manovella del poccio Andiamocene via Minuto è passato ormai Quindi Ucciamo via Troppa ansia Mi sta dando oggi Questo gioco Questa musica terrificante Mamma mia Mamma mia Mi va a spaventare Questa musica Qua muovete Prima che arriva Quella cosa Ci viene a prendere Perché non è come Ivor Nani Mr.Mito Escrime Che puoi aggirare il nemico Se Grani arriva È finita E qui abbiamo trovato L'oggetto più inutile Del gioco Forse Un ingranaggio No Intanto prendiamo La gasoline Facciamo il classico rumore Non voglio andare Dalla finestra Però Perché gli oggetti Ancora non li voglio mettere Intanto vieni Esci dai Esci E io entro Solita fregata Trollata Questa laccio qua vicino Come sempre Tanto quel coso Mi sta rincorrendo Musica di violino Terrificante Sta partendo Ragazzi Quindi qua Il fucile Andiamocene Passandola qua sotto Veloce Mentre qua c'è il libro Inutile Che non serve Qua dentro Non c'è niente Come al solito Pure gli armadietti Pronto Pronto E' il granny morta Sbrighiamoci Adesso la nonnina Arriva Facciamo un bel rumore E la nonnina Sbrighiamoci Dov'è Dov'è il pezzo Non ha capito Tanto la balestra Tanto con la sua Eccola la nonnina Veloce Veloce Quest'oggi Vieni qua Eccola qua Questa porta Scappiamocene Scappiamocene Spiegata Intanto tagliamo il melone Mangiamocelo Miam miam E qua che cosa c'è Manco lo so Questo serve Spark plug Non arriva Sì Puntuale Come al solito Ciao Scappiamo Quella sta arrivando Tutto questo Lo avvicino qua Recuperiamo il fucile Perché la dovrebbe fare Il giro all'altra parte Siamo qua pure Alla sauna Non c'è niente Quando mai Non c'è niente Perché adesso Sono armato Mi sa che ancora Non ti metto fuori uso Mi sa Perché me la voglio rischiare Ragazzi Sono pazzo io Me la voglio rischiare Me la voglio rischiare Quindi adesso Mi frega Forse la nona Non lo so Mi malerischio Me ne vado qua sopra Piano piano Se non cadiamo Ci facciamo male Adesso mi sono fregato qua Tanto abbiamo l'oggetto Che ci serve qua La Rens La chiave inglese Via Via La vecchia è arrivata La vecchia Vecchia Veggera Vecchia Veggera Ti ho fregato Ti ho fregato ah 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 fregato vecchia e adesso ti addormento adesso si la devo addormentare e forse ho tutto per scapare no, non ho tutto mi manca la padlock e chissà dov'è quella chiave se nonina si addormenta buonanotte, un minuto e trenta secondi approfittiamoli però, non li sprechiamo tutti mentre qua recuperiamo stucoso l'engine part la controlliamo meglio non c'è niente sono però tre proiettili inutile questo lo lascio qua adesso quindi carichiamo il fucile se vi ho gestito male questa chance qui non c'era niente qua ci vorrebbe il martello pure, non l'abbiamo trovata ancora se qua adesso vi ho fatto rumore, forse no qua c'è questo oggetto che potrebbe servirci non si riesco a evitare qua è impossibile evitare aiuto ce l'ho fatta evitare ah no ma non arriva non arriva tanto qua c'è questo coso il peporoncino rosso il peporoncino rosso aiuto dietro di me non lo so dov'è cannina farti vedere il fucile il fucile me lo porta presto stavolta mi sa non ci addormenta la nonna no sta venendo lei direttamente a noi peggio vieni qua la nonna che te scappi vieni qua la nonna adesso dobbiamo usarlo il fucile purtroppo buonanotte dobbiamo vedere l'uccello perché mi sa che la patrol case si trova proprio nella playhouse mi sa prima che si sveglia granny prendiamo qua il cibo dell'uccellino dai diamoci un po' di cibo perché non mangia mai la nonna non si prende cura dei suoi animali poi c'era pure il ragno di sopra non so se il ragno dovesse possedere la chiave ma la carne non l'ho trovata ancora tanto ragno va a mangiare recuperiamo ingranaggio tant'io vado a controllare la playhouse questo alaccio qua recuperiamo la chiave della playhouse ma che si sveglia la nonna adesso andiamocene fuori tanto qua apriamo adesso sbammiamo quindi recuperiamo qua l'ingranaggio classico rumore tanto andiamo nella playhouse mettiamo questo non è una palla prendiamo l'altro ingranaggio che era nel pozzo nel posto di un martello mi ha dato questo coso il martello che si trova in quella stanza strana vediamo che c'è la padron ok speriamo no master key ti pareva oggetto più inutile del gioco quest'oggi master key non serve a niente intanto qua ho fatto rumore non in arriverà adesso devo recuperare la balestra meraviglia c'è nonna ciao copriamo la balestra ma che arriva la nonna nina nina non nina non nina fermati ti avviso nonna fermati ti ho detto di fermarti se non ti fermi io ti frego intanto qua ha spawnato che è successo si è buggato il gioco ha spawnato un'altra freccetta quando colpito la nonna intanto qua dobbiamo andare a sparare in quella stanza segreta che se non prendiamo bene la mira non si aprirà mai ottimo abbiamo aperto qua adesso c'è il martello però qua c'è questo oggetto bellissimo ragazzi che adesso proveremo se riusciamo a provarlo prima che arriva la nonna faccio qua tutto l'umore mamma mia quanto qua c'è la carne del ragno io aspetto qua sotto la nonna adesso arriva ma che sta arrivando eccola lì guardate che è successo ragazzi la nonna si è congelata tutta e si è distrutta mamma mia e questo è il potere di questa arma bellissima questa è la parte più brutta di questo gioco andrei da ragnetto dove è diventato più schifoso guardate qui quanto è diventato schifoso mamma mia non ti fa schifo sto ragno e qua ovviamente c'è la padron ok l'ultimo oggetto che ci serviva non ti fa schifo quel ragno più brutto di così l'hanno andato a diventare nonna vieni qua c'è pure rumore nonna ti aspetta braccio aperto vieni qua c'è pure rumore abbiamo tutto ragazzi possiamo scappare la nonna è arrivata non è morta purtroppo e sbrighiamoci adesso perché dobbiamo fare tutto vedere di recuperare quell'oggetto veramente bellissimo che può congelare la nonna e distruggerla mi raccomando la lascio qua proprio tiè tanto io inizio a mettere gli oggetti a ogni parte iniziamo dalla gasoline quindi qua iniziamo a riempire però ce l'hai questa musica inquietante forza tanto qua adesso farà cadere questo oggetto speriamo di no no andiamo qua la spark plug quindi adesso aggiustiamo i puntini rossi come al solito qui c'è la batteria però qui abbiamo completato e deve chiudere vediamo qui il lucchetto vi ho fatto un bellissimo rumore che bello quando facciamo rumore e si adesso la nonna si deve addormentare in quel nostro oggetto congelante la nonna si deve addormentare quindi vieni qua nonna prendo il disco e ti congelo poi scappiamo nina sono qui prendilo forza andiamo pure la chiave ciao nonna ci facciamo un bel sorgelato lì nonna buonanotte ciao nonna ti sei distrutta pure la testa però non muori mai perché sei immortale ecco perché vieni lasciando un altro qua si sa nonna prova a venire qua noi siamo già a posto tanto la chiave dov'è eccola qui mamma mia non si vedeva adesso siamo pronti per scappare via si andiamo dietro andiamo avanti e boom andiamo dietro andiamo avanti e boom ultima volta andiamo dietro e andiamo avanti boom ciao ciao nonnina ti abbiamo rubato per la seconda volta la macchina ma stavolta in modalità nightmare questa volta nonna ti saluto ciao ciao il video finisce qui ragazzi mi raccomando spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale e vi auguro anche una buona giornata una buona serata e una buona notte noi ci vedremo in un prossimo video e quindi ciao ciao ciao